Potenziamento di controlli confermato e approvato anche dal nuovo prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, per l'area che va dal monumento della Resistenza fino al Parco Miralfiore. La nuova seduta del Consiglio Comunale di Pesaro si è aperta con la risposta dell'assessore a rigore Riccardo Pozzi all'interrogazione presentata dal consigliere del gruppo Prima Cepesaro, Emanuele Gambini, relativa alla pulizia, al decoro e alla sicurezza della zona Ipercop. Durante l'ultimo comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico è stata infatti concordata la predisposizione di maggiori controlli che coinvolgeranno, oltre agli agenti della polizia locale, a rotazione anche gli uomini della polizia di Stato e i carabinieri. Per quanto riguarda invece l'area più vicina al centro commerciale Ipercop e dunque quella dei condomini situati tra Via Costa e Via Solferino, l'assessore Pozzi ha puntualizzato che sono stati svolti incontri tra l'amministrazione e alcuni residenti degli edifici per raggiungere su misure che delimitino gli accessi ai vialotti interni, privati ma ad uso pubblico, dell'intero complesso. Tra le proposte che potrebbero essere messe in atto dai condomini, quella di perimetrare con delle cancellate gli ingressi dei viali. Tra i temi affrontati durante l'assise, anche l'approvazione del progetto del nuovo parcheggio per la scuola primaria Anna Frank di Santa Maria delle Fabricce. Il Consiglio ha approvato unanime l'operazione dal costo complessivo di 440.000 euro, che vuole essere una risposta alla richiesta della comunità, come spiegato dall'assessore all'operatività Enzo Belloni, per la sicurezza dei fruitori dell'istituto ma anche per decongestionare il traffico nel quartiere. Circa 100 i posti autoprevisti, due strade di collegamento, nuovi marciapiedi, aiuole sparti traffico verdi ed un impianto di illuminazione a LED. Tra le voci che hanno risposto alle parole dell'assessore e all'approvazione del progetto anche quella del consigliere della Lega Roberto Biagiotti, che ha definito necessaria la creazione dell'area, per la quale però, ha sottolineato il consigliere, non è stata presentata un'analisi che valutasse soluzioni alternative. Approvato, con 22 voti favorevoli, anche il prospetto del budget 2021 di Aspes. Nonostante la crisi pandemica, la partecipata del Comune ha registrato numeri in attivo, con il valore delle produzioni che dovrebbe registrare un incremento del 13,8% rispetto al 2020. Il consigliere di Forza Italia e presidente della Commissione Società Partecipate, Michele Redaelli, ha ringraziato l'azienda per il lavoro svolto soprattutto con le farmacie comunali, mentre ha sottolineato l'esigenza di effettuare un'analisi attenta dello stato attuale dei servizi cimiteriali, che permetta di anticipare una saturazione totale. In merito al cimitero centrale e alle ripetute segnalazioni per i disagi riscontrati, è intervenuto anche il consigliere della Lega Giovanni Dall'Asta. Il presidente Aspes Luca Pieri, presente in consiglio, ha ricordato la gestione dei servizi cimiteriali, 27 in totale, che con l'arrivo del Covid ha comportato un lavoro durissimo per tutto il personale. Plauso da parte del presidente anche per l'attività mai interrotta dei farmacisti e in generale per tutti i dipendenti della partecipata.